Giornata di pioggia, perlomeno nella seconda parte del giorno, nel pomeriggio, la parte però nella quale l'Inter si è ritrovata a piano gentile dopo due giorni di riposo concessi da mister Gasperini a seguito della sfida con il Galatasaray a Bocum la scorsa domenica. Quindi squadra che si è ritrovata e squadra che ha ritrovato tra i propri effettivi per tutta la durata dell'allenamento Tiago Motta, l'italo-brasiliano ha lavorato con i compagni una notizia importante in vista di quello che sarà il periodo che ci attende con la doppia sfida anglosassone, Celtic e Manchester City sabato e domenica la Dublin Super Cup e poi il viaggio per Pechino in vista di quella che sarà la gara con il Milan per la Supercoppa italiana. Arriviamo al menu dell'allenamento, si è di fatto disputato in poco più di un'ora con una parte legata al riscaldamento con la squadra che ha lavorato agli ordini di mister Gasperini, poi sul possesso palla, quindi esercizi di natura tecnica e allenamento che si è concluso con una partitella a tema dove c'è stata la possibilità anche per il mister Gasperini di lavorare, sempre dal punto di vista del tema dell'allenamento. La sfida è su alcuni concetti di natura tattica. Questo è l'allenamento odierno, domani la squadra tornerà a lavorare per una doppia sessione di allenamento, venerdì invece è prevista la partenza per l'Irlanda. Questo per quello che riguarda gli allenamenti, per tutto quello che invece concerne il mondo inter, l'appuntamento è sulla canale 232 di Sky Inter Channel.